Assessore, si guarda questa estate, si guarda ad un'estate quasi normale, grazie anche alle riaperture. L'amministrazione comunale di Chieti, il suo assessorato in particolare, oggi presentano questa novità dei campus estivi per i ragazzi, i bambini della città di Chieti. Sì, si tratta appunto di una serie di campus sportivi che con il tessuto associativo sportivo della città abbiamo deciso di organizzare, ma è soprattutto un modo per dare l'apertura a tutte quelle realtà sportive cittadine che intendessero credere nei giovani e in una chiaramente ripartenza necessaria e doverosa per lo sport, per le nuove generazioni, per quegli strumenti anche di socializzazione che purtroppo sono stati duramente colpiti dalla pandemia ma che oggi si accingono a ripartire nella loro pienezza. Cogliamo l'occasione per ringraziare, noi come Comune abbiamo dato il nostro patrocinio a questa iniziativa, ma è ovvio che il lavoro delle associazioni è assolutamente indispensabile e chiaramente noi dimostriamo anche in questa occasione la massima apertura nei confronti di tutte quelle realtà che decidono di puntare sulla nostra città, di credere nella nostra città e soprattutto di consentire una piena ripartenza dell'attività sportiva. Stiamo facendo davvero molto anche come politiche giovanili, abbiamo in mente di portare avanti una riorganizzazione piena dell'informa giovani, abbiamo raccolto a pieno l'appello del ministro Dadone rispetto anche alla piattaforma Giovani 2030, crediamo che non bisogna soltanto fare informazione ma soprattutto fare formazione e dare concrete opportunità ai giovani affinché questi possano trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro, nella società del domani.